Eccolo qua, ben ritrovato, Thomas Blackthorn Il nostro giudice Marco Frigatti Caro giudice Frigatti, buonasera Buonasera a tutti Allora, ci racconti, lui è qui, Thomas, per battere un record che già detiene, vero? Sì, esatto Allora, in cosa consiste? Nel sollevare il peso maggiore utilizzando solo la lingua Cioè come? Qual è il sistema? Allora, in base al regolamento di Guinness World Record potrà utilizzare un semplice gancio ad S Che ho qui in mano Che verrà fatto passare attraverso un foro o piercing nella lingua Giudice Frigatti, Thomas Blackthorn, prego, procedete E questa sera Thomas cercherà di sollevare con la lingua 12 chili Quindi 500 grammi più dell'attuale record del mondo Sì Thomas Blackthorn porta il contenitore al centro del palcoscenico E comincia la preparazione meticolosa per questo incredibile record Il peso dovrà essere sollevato per 5 secondi Attenzione Ecco, attenzione Diciamo che si è messo in condizioni di fare forza sulla lingua con questo gancio E ora cerca la concentrazione per questa incredibile folle impresa Attenzione, appena comincerà a sollevare partirà il tempo E il tifo di tutto il 5 Massimo Show Ehi, vai forza, forza 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10 Record, 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 record del mondo Mamma mia, ma chi glielo ha fatto fare? Ma è record del mondo Ma come gli è venuto in mente? Ma è record No, 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 io non ti tocco No, 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 amico, no, io ho paura No, troppo forte ma io ho paura di farle del male dopo questo sforzo complimenti un nuovo Guinness World Record è un piacere consegnarti questo certificato per un nuovo Guinness World Record di questa sera 12 chili sulla lingua